La Giunta regionale ha deliberato la presa d'atto del progetto preliminare presentato dal Comune di Castronuovo Sant'Andrea per la realizzazione di interventi di protezione e contenimento della strada Serrapotina, stanziando per le opere 250.000 euro. Lo ha fatto sapere l'assessore alle infrastrutture Luca Braia, sottolineando che nella delibera l'esecutivo ha disposto inoltre che il Comune beneficiario provveda all'approvazione del progetto preliminare dell'appalto, all'esecuzione e al collaudo dei lavori previsti. L'intervento, ha commentato l'assessore Braia, scaturisce da un incontro convocato a seguito del sopralluogo dei tecnici del Dipartimento alle Infrastrutture nello scorso mese di giugno, nel quale emerse la necessità di interventi urgenti per la messa in sicurezza della strada provinciale a causa di movimenti franosi causati dalla continuazione erosiva esercitata dal torrente Serrapotamo che scorre parallelamente alla strada statale e che crea pericoli per la circolazione e la pubblica e privata incolumità. Si tratta, ha concluso l'assessore, di una risposta concreta alle richieste di intervento avanzate nel mese di gennaio 2013 dai sindaci di Calvera, Carbone, Teana, Fardella, Chiaromonte, Castronuovo, Sant'Andrea considerata l'importanza dell'arteria stradale.